Giusy però dalla sabbia, ho visto che si possono fare vetri, ma dalla sabbia fanno anche i diamanti Giusy, quindi trasparenti come il diamante, una cosa bellissima, i diamanti vedo che in finanza ultimamente... Se poi me lo regalano è ancora più bello. Sì, come è che dicono con le donne per il diamante per sempre, è vero Mireia? Eh sì, migliore amico delle donne. Non ti fa regalare meno di un diamante di un carato, eh? Un carato sono 50.000 euro dicevano, eccetera eccetera, no ho sbagliato Giusy, come mai tutto questo interesse per questa cosa qui? Beh questa settimana in particolare sembra che sia il tema dell'anno l'investimento in diamanti, per cui a differenza della bellissima luce che ha un diamante pregiato, della bellissima sfaccettatura, poi certe proposte diciamo che arrivano da intermediari finanziari che a volte dubito su questa qualifica, per i quali a volte dubito su questa qualifica, sono appunto una proposta di investimento in diamanti, dove più volte, anche qui la trasparenza, più volte Consob si è espressa che investire in diamanti non è uno strumento finanziario e su questa cosa, su questo aspetto così poco trasparente, definiamolo così, gli intermediari fanno affari perché ovviamente si esula, si evita tutta una serie di regolamentazione che invece è d'obbligo per normativa in ambito di prodotti finanziari. Quindi non è satana il diamante l'investimento? No, allora come tutti gli strumenti, come tutte le opportunità che offre il mercato, non è una brutta cosa investire in diamanti, è chiaro che bisogna essere degli investitori qualificati per fare questo tipo di scelte, bisogna conoscere il settore, ma non conoscere il settore perché deve diventare esperto in diamante, ma un investimento così specifico, visto che lo definiscono tale, un investimento così puntuale su qualcosa che è ben definito, che è diamante, una pietra preziosa, non stiamo parlando di diversificazione, stiamo parlando di mettere una certa somma in un certo investimento, come lo definiscono, in beni rifugio. Quindi questo va analizzato, valutato, bisogna essere consapevoli dell'orizzonte temporale, che non è un orizzonte temporale di sei mesi, il nome bene rifugio ti fa capire che deve essere un bene dove praticamente il contesto finanziario probabilmente è un disastro, o probabilmente ci sono grosse problematiche, e quindi se non succede questo, il bene rifugio è un bene illiquido, quindi la problematica di dover disinvestire, chi me lo ricompra. Chi mi fa il prezzo? Come viene definito il prezzo? Tutte queste regole che normalmente in uno strumento finanziario, definiamolo classico, perché rientra in un contesto min-feed, quindi in questo classico, invece segue certe normative, certe regole, quindi è di più facile comprensione per il cliente finale. Ma questo anche a tutela dei clienti finali, soprattutto a tutela dei clienti finali, perché nessuno nega il valore che può avere un diamante, assolutamente, cioè, lungo da me, l'idea di negare il valore del diamante. È un investimento ben preciso. Noi sai, Mireia, ricordiamo sempre, come Your Solution, che il 2016 l'abbiamo intitolato, come mantra, la protezione del capitale. Proteggi la tua casa e il tuo patrimonio nel 2016, non è ancora finito l'anno. Protezione del capitale.